L'hospice di Arezzo, destinato ad accogliere malati oncologici terminali che necessitano di cure palliative, lascia la struttura della cooperativa Coenè e si trasferisce temporaneamente al San Giuseppe Hospital nel centro di Arezzo. All'interno della struttura Coenè arriva invece l'ospitalità per i pazienti Covid particolarmente fragili provenienti dall'RSA dell'Aretino. L'hospice, oltre al servizio scudo del Calcit, aveva cambiato sede alla fine dello scorso marzo quando fu deciso il trasferimento di oncologia all'interno della palazzina ex Calcit, interessata da un violento incendio. Adesso l'emergenza Covid impone un nuovo cambiamento. Quei locali, messi gratuitamente a disposizione del distretto sanitario da Coenè, avranno una nuova destinazione, mentre l'hospice troverà collocazione al San Giuseppe. Attualmente ospita due pazienti che troveranno spazio in due camere attrezzate singole e tutti i livelli assistenziali, medici ed infermieristici. Questa nuova disposizione sarà operativa dai primi giorni di questa settimana, dice il dottor Evaristo Giglio, direttore del distretto sanitario di Arezzo, Casentino e Valtiberina. Andrà a rispondere ad un forte bisogno dell'RSA di tutta la provincia di Arezzo per isolare i positivi dagli ospiti negativi. Il servizio scudo, invece, trasloca in via Arno. Stiamo lavorando, conclude Giglio, affinché l'hospice trovi una sede definitiva e sia potenziato.